30 anni di fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro. Un anniversario che è stato celebrato sabato nel ricordo di chi, come Gianfranco Sabatini, è stato presidente dal 2000 al 2015 per metà di quelle tre decadi, costruendo un punto di riferimento per tutta la comunità territoriale. Comunità, memoria e riflessione, tre concetti che ora si declinano in un nuovo luogo donato alla comunità pesarese, la biblioteca in memoria di Gianfranco Sabatini, inaugurata proprio nell'occasione di sabato. Una inaugurazione che è stata all'apice di celebrazioni che a Palazzo Montagnantaldi sono state avviate da un incontro volto ad analizzare il percorso intrapreso in tre decenni fondamentali per guardare con consapevolezza al futuro. Una consapevolezza sintetizzata anche dalla inaugurazione dell'esposizione 30 anni insieme per lo sviluppo del territorio che sarà visitabile fino all'8 gennaio. Conoscere il presente e il passato ci dà la possibilità di interpretare meglio quello che sarà probabilmente il futuro. Questa nostra cultura di continuare a sovvenire un territorio che, come ho ricordato, specialmente nelle parti più deboli e più fragili, è il punto di forza della fondazione. Come farlo? Imparando dal passato e dal presente. Tante le personalità istituzionali che hanno presenziato all'anniversario, dal sindaco Ricci all'arcivescovo Sandro Salvucci fino al professore Ivano Dionici che ha dipinto con parole toccanti il suo personale ritratto di Sabatini. Un'eredità morale e professionale testimoniata anche da Martelli. Per me è particolarmente emozionante ricordare Sabatini perché ho passato con lui anche tutta la mia vita professionale. Dalla fine degli anni 80 fino alla sua morte nel 2017, a vario titolo siamo stati insieme e se oggi sono qui a ricoprire questo ruolo probabilmente molto devo a lui. Sebastiano Miccoli, curatore del progetto scientifico della biblioteca, ha illustrato il percorso che ha portato alla inaugurazione di un luogo che ospiterà i 17.000 volumi donati dalla famiglia Sabatini. Si tratta di una raccolta multiforme, è la raccolta dei libri che Gianfranco Sabatini ha messo insieme nell'arco di più di un sessantennio di vita culturale e professionale appassionata. è una biblioteca che dà la misura proprio di un lettore appassionato, di un lettore curioso e meravigliato di fronte a tutto quello che il mondo culturale intorno a lui poteva offrire. In effetti non è una biblioteca monotematica ma è una biblioteca che raccoglie svariati argomenti dalla storia dell'arte all'arte e cultura locale, alla teologia, alla filosofia, ai fumetti, ai libri di umorismo, una ricchissima raccolta di gialli. L'intento di questa operazione culturale è stato quello di restituire alla cittadinanza la visione di che cosa è stato un uomo di cultura a largo spettro nella seconda metà del Novecento. Da oggi in poi Pesaro ha anche questa ulteriore testimonianza della propria ricchezza culturale.